6 ettari di terreno coperti da bombole a gas, cisterne contenenti liquami, acidi, vernici e pezzi di Eternit. È quanto resta di una fabbrica dismessa tra Monte San Savino e Marciano. L'azienda nel tempo ha subito diversi passaggi di proprietà. Per questo gli agenti del Corpo Forestale di Arezzo, subito dopo aver scoperto l'area, non erano riusciti nell'immediato a risalire al responsabile. Dopo settimane di indagini accurate si è arrivati ad individuare il proprietario. Il prossimo passo sarà la procedura di bonifica del sito. Non è certamente nel primo, nell'ultimo episodio, nell'aretino di questo genere. Gli stabilimenti industriali in disuso in tempi di crisi aumentano e possono rappresentare dei veri e propri pericoli ambientali. Occorre far crescere la soglia di attenzione. Per questo Corpo Forestale dello Stato e Procura della Repubblica hanno deciso di lanciare una task force che permetta di assicurare alla giustizia i responsabili di questo tipo di reati ambientali, cercando di evitare la prescrizione. A richiamare l'attenzione è anche Lega Ambiente, che già con il rapporto Ecomafie ha messo in evidenza i numeri in crescita nell'aretino sul fronte degli affari illeciti ai danni dell'ambiente. Il rapporto Ecomafie tira fuori dei numeri, dei numeri che se risultano, questo già significa che c'è un lavoro sul territorio importante. Allora, che vuol dire? Vuol dire che se Arezzo è prima, a livello toscano, come incidenza di reati ambientali sul ciclo dei rifiuti, da un lato vuol dire sicuramente che c'è un problema, da quell'altro vuol dire anche però che le forze dell'ordine, in questo caso la forestale, ma insieme anche altri, la Procura etc., hanno fatto anche sicuramente un lavoro di qualità, vanno letti anche come la capacità di agire almeno a un primo livello su questo tipo di problemi. Ciò non significa che non si debba poi agire anche sul cambiamento più profondo, cioè quello di costruire una cultura della legalità da questo punto di vista, anche perché il rapporto si chiama rapporto Ecomafie, è vero, ma non tutti questi reati che vengono segnalati sono da imputare alla gestione della mafia o della camorra della criminalità organizzata.